Cotture a bassa temperatura anche a casa Ciao, sono Andrea Il Giglio, chef pasticcere, specializzato in cucina e in pasticceria salutistica e di qualità Bene, oggi ti volevo parlare di una cosa molto importante che personalmente mi piace molto è la cottura a bassa temperatura Sappiamo che nei grandi alberghi, grandi ristoranti fanno questi tipi di cotture e si pensa che sia una cosa inarrivabile, una cosa veramente complicata in effetti non lo è ed è molto semplice La bassa temperatura è una cottura che si può utilizzare per tutti gli alimenti quindi carne, pesce, uova, legumi, verdure, frutta, confetture, marmellate veramente per tantissime cose è una tecnica che consiste nel cuocere un alimento dai 60 ai 80 gradi circa per lunghe ore, 2, 3, 4, 5, 6, 10 ore, 20 ore, 30 ore e serve appunto per avere una carne, un prodotto veramente morbido ad esempio la carne si può mangiare col cucchiaino e diventa morbidissima perché ovviamente le fibre si spaccano il collagene si lascia andare, la carne diventa un burro come si fa quindi? Allora io sicuramente consiglio una pentola per casa che si chiama Electrolux fornello lento da cucina che si trova anche su Amazon io personalmente ce l'ho a casa l'azienda non è che mi paga per dire questo ma voglio dare un valore a questo video quindi alle persone che mi seguono questa pentola consuma quanto una lampadina elettrica è la cosa bella che possiamo mettere carne, pesce, uova insomma quello che vogliamo cucinare all'interno la sera attaccare la presa, chiudere il coperchio e andare a dormire l'indomani trovare una carne morbidissima un pesce straordinario e delle cotture fantastiche ad esempio d'inverno fai un osso buco cotto a bassa temperatura facciamo del goulash, facciamo uno stinco di maiale ad esempio per il pesce un paio d'ore, due o tre ore cotto a bassa temperatura è morbidissimo fare delle frittate anche possiamo fare delle uova cotte a bassa temperatura simile poché, dei legumi è veramente una macchina innanzitutto che non toglie tempo alla persona per cucinare ma cucina da sola e poi che veramente fa un prodotto fantastico e salutare perché la caratteristica della cucina a bassa temperatura è che oltre che essere buono e morbido contenere più principi nutritivi è proprio salutare proprio fa bene perché non ci sono cotture violente all'interno quindi non è arrostito al barbecue non è fritto non è arrostito in padella con l'olio ma è come se fosse un vapore ancora meglio anzi perché è proprio la proteina non viene bruciata arrostita, fritta quindi non si producono idrocarburi policiclici all'ormatici, benzopireni o nel fritto la croleina bene questa è una pentola sicuramente ottima per cucinare invece nel ristorante troviamo il runner che è un apparecchio che mantiene l'acqua a temperatura costante va inserito dentro una gastronom un contenitore di acciaio gli alimenti vanno inseriti nei sacchetti sotto vuoto in questo modo si ottiene un prodotto eccellente ma a casa sicuramente questa pentola è molto meglio l'acciaio è molto bella e poi permette di fare questo tipo di lavorazioni bene se ti è piaciuto questo video metti un mi piace alla mia pagina facebook al mio canale youtube iscriviti al canale restiamo sempre aggiornati per qualsiasi dubbio o domanda puoi anche scrivermi alla mia mail ciao 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 ciao